Ancora, sono contatti questi importanti, messaggio della Polizia Postale, perché invece chi c'è il computer che funziona? Online, in questo momento stanno proliferando purtroppo le frodi, attenzione, le frodi, sia sui prodotti che ci servono di più, sia su molto altro. Sentiamo la Polizia Postale che cosa dice, un messaggio che ci hanno mandato. In questo momento di estrema difficoltà per tutto il Paese si stanno purtroppo moltiplicando i casi di criminalità informatica. Registriamo un aumento delle frodi online, false mail provenienti da falsi medici, false organizzazioni di sanità, inducono in realtà a cliccare su pericolosi allegati che installano virus, che assumono il controllo e spiano tutto il nostro comportamento online. Si moltiplicano purtroppo anche i casi di truffa, e-commerce legata alla commercializzazione abusiva di mascherine e dispositivi sanitari. Si moltiplicano i casi di false raccolte fondi a beneficio di ospedali, con denaro che purtroppo confluisce nelle mani di organizzazioni criminali all'estero. Purtroppo, in ultimo, la sovraesposizione dei nostri figli online comporta un innalzato rischio di adescamento da parte di pericolose pedofili. E' bene quindi sottolineare i consigli di diffidare sempre da quello che si sta facendo e da chi c'è dall'altra parte del computer. Clicchiamo, prima di cliccare, verifichiamo le fonti del messaggio. Non diffondiamo fake news, asteniamoci da diffondere catene informative che non provengano da fonti ufficiali, Ministero della Salute o siti governativi. Per ogni dubbio o segnalazione facciamo sempre riferimento al sito internet della Polizia Postale www.commissariatodps.it